Musica Buonasera e benvenuti anche all'appuntamento con la pagina sportiva del nostro telegiornale. Sconfitto alla prima il Montevarchi paga l'emozione di giocare contro una grande proprio all'esordio. Esordio amaro per il Montevarchi che battezza il ritorno in Serie C con la sconfitta di Reggio Emilia. I ragazzi di Malotti non hanno sfigurato davanti ad una squadra smaliziata che i bookmakers hanno inserito nell'otto delle favorite. Malotti rinuncia a Yallou e schiera il suo modulo preferito, il 3-4-1-2, caratterizzato da una carta di identità complessiva che fa del Montevarchi la squadra più giovane tra i professionisti. I Granata partono meglio e passano con l'ex Amaranto Luciani ma il direttore di gara annulla perché la palla sarebbe uscita sul cross di Raderezza. Il Montevarchi sta bene in campo ma la Reggiana riesce a passare al 31esimo con un gran gol di Zamparo. Si sblocca l'inerzia della partita. Nella ripresa Malotti inserisce Yallou e Martorelli. Dopo 5 minuti è Barranca che cerca la rete del pareggio con insistenza. La sua conclusione è sventata da Venturi che mette in calcio d'angolo. Il Montevarchi insiste, è un difensore Granata, mette il piede giusto su tiro a porta spalancata. Ed è proprio sul momento migliore dei Valdarnesi che arriva la mazzata che non ti aspetti. Da calcio d'angolo la traiettoria disegnata dalla bandierina è perfetta per la battuta di Rozzio. Il difensore, ammonito da poco, svetta e trova la giusta traiettoria. Al bravo Rinaldi non resta che raccogliere il pallone in rete. Partita virtualmente finita, alla Regione ai tre punti, al Montevarchi gli applausi, che non fanno classifica però. Paolo Lomasto in queste battute iniziali della stagione ha confermato di avere le qualità necessarie per guidare il pacchetto arretrato dell'Arezzo. Lomasto, cresce la condizione? Sì, sicuramente oggi abbiamo fatto una prestazione migliore rispetto a quella di domenica. Sicuramente i meccanismi vengono più automatici. Siamo una squadra che è tutta nuova, quindi pian piano sicuramente stiamo trovando l'amalgama giusta. Tu hai l'esperienza necessaria per essere un valore aggiunto. La dietro già l'intesta sta crescendo. Sì, sicuramente siamo quattro difensori, tutti e quattro forti, con un bagaglio importante. Siamo in grado di aiutare i ragazzi che abbiamo al nostro fianco per farli crescere e per farli avere più sicurezza. Di Mariotti ha detto che vuole una squadra che mozzica. Sicuramente, non lo dice Misse, che dalla Serie A alle categorie più basse è importante correre, arrivare prima sui palloni e recuperare i più palloni possibile. Intitolata Corrado Viciani, la gradinata dello stadio Faralli a Castiglion Fiorentino. La gradinata dello stadio Faralli di Castiglion Fiorentino è stata intitolata Corrado Viciani, allenatore rimasto nella storia per aver inventato il calcio corto. Con un ritardo rispetto ai tempi questo stadio riapre i cancelli e lo riapre in un giorno speciale, in un modo particolare, con questa dedica, questo omaggio di questa gradinata interamente ristrutturata, non tanto per la tribuna che per qualcuno può essere grande, larga o stretta, soprattutto per un intervento strutturale che ha riguardato tutti gli spogliatoi con anche delle sedute nuove e con la possibilità quindi, in modo anche omologato e rispettando i requisiti di legge, di avere una capienza anche di oltre 2.000 persone in questo stadio che ha già una dedica importante, quella di un altro figlio castiglionese, Emanuele Faralli, a cui si aggiunge questa suggestione che per gli sportivi e per gli appassionati di calcio ha un sapore estremamente particolare, ovvero dedicare la gradinata al maestro Viciani. Ma il 30 agosto è una data significativa e oggi questa gradinata porta il nome di Corrado Viciani. Il fatto che la gradinata sia stata intitolata Corrado ovviamente riempie d'orgoglio, fa felice la famiglia, sono sicuro che Corrado se può vedere sarà ben felice di questa cosa, sarà stato felice dell'intitolazione della curva dello stadio di Terni. Sono forse insieme a Palermo le città dove Castion Fiorentino e Terni, le città dove lui ha più importanti per la sua vita, perché qui ci ha vissuto da civile, diciamo così, Eterni invece è stata l'apice del successo dal punto di vista calcistico. L'inaugurazione è stata effettuata pochi minuti prima della partita di solidarietà tra la Nazionale Infermieri e la Selezione Meoni, giocata proprio per ricordare Fabrizio e Chiara Meoni. Il presidente della scuola basket Arezzo Castelli commenta il protocollo Covid a poche settimane dalla ripartenza dei campionati. Il presidente Castelli sta per iniziare una nuova stagione per quanto riguarda il campionato, ha già preso il via la preparazione, sarà un girone piuttosto impegnativo, forse però l'avversario principale da sconfiggere vista l'annata precedente è il Covid. Ogni giorno ne nasce una nuova, è arrivato un nuovo protocollo, avevo detto di non fare polemica, ma è impossibile non la fare, anche questa volta è un protocollo sportivo allucinante che favorisce come al solito sempre sport all'aperto e mai quelli a chiuso e questa situazione ha messo in crisi veramente tante società. Se quelle poche società che sono sopravvissute al problema della pandemia adesso prenderanno una mazzata inizialmente nella stagione perché questo discorso del green pass o diciamo obbligatorio, fra virgolette, per entrare in palestra comincia a essere un problema. Non è obbligatorio perché l'alternativa sono un tampone ogni 48 ore. Ora provate voi a parlare con un genitore di un bambino che magari non ha ancora fatto tempo a poter fare il tampone, di fargli fare un tampone ogni 48 ore. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le regole e anche per questa annata dovremo soffrire tantissimo per l'organizzazione del Covid. Tornando all'aspetto agonistico, appuntamento per il prossimo 3 ottobre con l'avvio del campionato. Si comincia subito con una squadra molto forte che è la Spezia, la trasferta più lunga però io sono di quelli che le cose difficili le vuole fare subito quindi siamo contenti. Il tempo c'è per mettere a disposizione la squadra, abbiamo già uno statura importante e il 3 ottobre sembra lontano ma poi alla fine un mese passa velocemente. Faremo delle amichevoli prima di queste, anzi diverti amichevoli e vediamo anche di costruire una squadra che insieme a questi nuovi innesti sia competitiva per il nome che rappresenta che è la città di Arezzo. Il Palasport Mario D'Agata di Arezzo ospiderà domani, mercoledì 1 settembre, il Cobb Memorial, partita di beneficenza per sostenere l'associazione Aisla che aiuta i malati di sclerosi laterale amiotrofica. L'inizio è previsto per le 20.30, chiunque volesse partecipare può contattare il 327-229-7838, l'ingresso minimo è fissato a 2 euro, il resto ad offerta libera. Verso il ritorno della cronoscalata automobilistica dello Spino, motori accesi dal 10 al 12 settembre. Tra il 10 e il 12 settembre la Valtiberina è pronta ad accogliere la 48esima edizione della cronoscalata dello Spino, gara valida per la tappa del trofeo italiano velocità in montagna, zona centro. Un grande ritorno dopo lo stop del 2020 causa Covid, quella del 2021 sarà in ogni caso un'edizione senza pubblico. Negli scorsi giorni i sei chilometri di quella che è una salita da sempre molto apprezzata dai piloti sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici della provincia di Arezzo e dei commissari di AC Sport che hanno rilevato le buone condizioni generali. A due settimane dall'evento sportivo si sta procedendo intanto all'asfaltatura della parte più alta di tracciato della strada provinciale 208, segmento che necessitava di un'adeguata sistemazione. Nel frattempo sono arrivate le prime iscrizioni. Sulla base delle indicazioni date dagli stessi ispettori sono partiti i lavori di allestimento del percorso coordinati dalla ProSpino Team che dal 2002 organizza ininterrottamente la manifestazione. È tutto per la pagina sportiva, grazie per averci seguito e arrivederci.